Quando a scuola si affronta il tema dei totalitarismi e in particolare del nazismo e del fascismo una delle cose più difficili da far capire ai ragazzi è come è stato possibile che tutti quegli orrori, quelle scelleratezze siano potute accadere, come è stato possibile che il nazismo ad esempio abbia preso piede in Germania, abbia conquistato il potere, l'abbia tenuto per anni con grandi consensi e abbia alla fine portato la Germania, il mondo, il popolo ebraico in particolare, ma tutto il mondo verso una catastrofe colossale e tragica. Come è stato possibile? Come mai nessuno si è ribellato? Come mai così poche voci si sono levate all'interno della Germania contro il nazismo, ma in fondo anche all'interno dell'Italia contro il fascismo, almeno fino a che le cose non sono andate male o in altre parti del mondo dovunque ci siano dei totalitarismi, perché così poche voci si ribellano? È solo paura? È un altro motivo? Per cercare di far capire ai ragazzi i meccanismi anche psicologici ma soprattutto storici che stanno dietro al consenso dei regimi totalitari, io a volte faccio vedere anche un film oltre che leggere determinati libri e oggi proprio all'interno della nostra rubrica di videoclub storico-filosofico vi presento uno di questi film, sicuramente uno dei più interessanti, anche uno dei più forti per certi versi, è un film tedesco del 2008, si intitola L'Onda, forse ne avete sentito parlare, forse l'avete anche visto, ma se non lo conoscete abbastanza bene oggi ve lo presento e vi spiego anche perché secondo me sarebbe utile vederlo in chiave storica e filosofica. Andiamo a cominciare! Caffè ormai sempre meno, così i miei studenti non si preoccupano che vogliono sapere quanto caffè bevo e quanto male sto, quanto agitato sono dalla caffeina prima delle interrogazioni. Topolino presenta l'appello e io sono Ermanno Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori, insegno in un liceo scientifico a Rovigo nel Veneto, nel sud del Veneto e uso questo canale ormai dal marzo del 2020 per video spiegazioni di storia e filosofia generalmente, ma anche per alcuni approfondimenti di educazione civica sui libri, sui film, infatti oggi parliamo, come vi ho detto in premessa, di un film perché oggi mettiamo in essere una nuova puntata della rubrica Videoclub storico-filosofico. Questa rubrica, l'ho già spiegato ma lo rispiego brevemente perché è qui al primo ascolto, è una rubrica in cui segnalo dei film o delle serie tv che secondo me sono particolarmente adatte per ragazzi delle superiori ma eventualmente anche ovviamente per gente più adulta, perché sono opere sicuramente di narrativa, sono film che si possono vedere al cinema, in tv, in casa, come si vuole per passarsi una serata, ma non sono così leggeri, certo magari a volte sono anche divertenti, però dietro hanno uno sfondo più storico o filosofico o a volte anche entrambi e quindi dopo averli visti, dopo aver così passato insieme al film un'ora e mezza, due ore, può venire voglia di pensare, di riflettere, di porsi delle domande. Io li uso appunto per catturare un po' l'attenzione o provare a catturare l'attenzione dei ragazzi e portarli su alcuni temi chiaramente di interesse culturale, storico o filosofico. Oggi il film in questione, ve l'ho già citato nella premessa, è l'Onda, un film di cui si fece un gran parlare quando uscì nel 2008, oggi in parte parzialmente dimenticato, infatti i miei studenti quando glielo presento adesso non sanno di che film si tratti e lo scoprono grazie a me, però è un film che è ancora valido nonostante abbia qualche anno, non tantissimi sulle spalle, un film tedesco del 2008 appunto. Un film che pur essendo ambientato ai giorni nostri ci permette di riflettere appunto come vi dicevo sui totalitarismi e in particolare sul nazismo. Uno dei temi che non solo gli storici ma direi anche i sociologi e gli psicologi si sono trovati ad affrontare nella dopoguerra ad oggi uno dei più grandi problemi è stato proprio cercare di capire come è stato possibile che sia accaduto quello che è accaduto, cioè che uno dei popoli più avanzati del mondo, il popolo tedesco, il popolo dei grandi filosofi di Kant e di Hegel, di Heidegger e di Nietzsche, fatto così con la sopracciglia per Heidegger perché magari quando faremo Heidegger parleremo anche di Heidegger e il nazismo, ma insomma il popolo della grande cultura di Beethoven e compagnia bella si è potuto cadere in un orrore del genere come è stato il nazismo. Com'è stato possibile? La cultura di quel popolo che era sicuramente una delle culture più avanzate del mondo, la conoscenza, la scuola di quel popolo non ha impedito che si generasse la più grande barbarie del Novecento. Ora, com'è stato possibile? Se lo sono chiesti molti, dal punto di vista filosofico se l'è chiesto Anna Arendt per dire nel famoso libro Le origini del totalitarismo di cui ho anche parlato e se guardate in descrizione trovate anche il link in cui presento le riflessioni di Anna Arendt, ma se lo sono chiesti ripeto anche sociologi e psicologi. Alcuni hanno fatto anche degli esperimenti sociali e in futuro presenterò probabilmente anche un video in cui racconto questi esperimenti, l'esperimento di Milgram, l'esperimento di Zimbardo e altri esperimenti di questo tipo, ma soprattutto una delle esperienze più così note e più significative è quella che pare sia stata fatta negli anni Sessanta in America ed è quell'esperienza da cui trae origine proprio questo film l'Onda. Qual è l'esperienza? Perché ho detto pare? Adesso ve lo spiego subito. L'esperimento in questione si svolse appunto alla fine degli anni Sessanta, appare nel Sessantasette in una scuola superiore della California a Palo Alto. Lì un professore di storia cercando di spiegare ai suoi studenti come era stato appunto possibile il nazismo, tentò di mettere in piedi un vero e proprio esperimento sociale, cioè convinse gli studenti a simulare una sorta di esperienza collettiva totalitaria in cui bisognasse criticare la democrazia, criticare i limiti della democrazia, iniziare ad agire come un gruppo coeso unitario che si vestiva allo stesso modo, che aveva degli slogan molto potenti con saluti eccetera e in questo modo cementare la forza del gruppo e tentare di capire quindi immedesimandosi come si dovevano essere sentiti i ragazzi che nella Germania degli anni Trenta avevano aderito al nazismo. Secondo quello che si sa di questo esperimento perché non c'è tantissima documentazione dell'epoca, l'esperimento presa abbastanza piede, tanto è vero che a un certo punto il professore di storia dovette interromperlo perché i ragazzi che chiaramente erano inizialmente molto critici davanti al nazismo, improvvisamente si trovarono presi da questa esperienza collettiva molto motivati e fin troppo adepti a quello che doveva essere solo un esperimento. Questo esperimento che viene ricordato a volte come l'esperimento della terza onda, venne poi ripreso in varie circostanze e portò anche all'elaborazione di alcuni libri, tra cui un romanzo semistorico, diciamo così, uscito in America da cui trae origine proprio il film tedesco del 2008, Londa, che riprende un po' quell'idea dell'onda e la fa propria. Il regista di questo film è un regista tedesco, in realtà ben poco noto in Italia, anche gli attori sono tutti attori tedeschi che raramente avrete visto in altri film perché certo hanno lavorato, ma in Germania in film che spesso proprio non vengono neppure tradotti in Italia, però devo dire che il cast, la regia e tutto il resto sono di buon livello. Non pensate all'ispettore Derrick o alcune fiction per la tv tedesca che sono spesso piuttosto scarenti, come lo sono quelle italiane per certi versi. Questo film è un film che presenta buone maestranze, buon cast, convincente, una buona regia, un film di buon livello. Quindi non ha niente da invidiare ai migliori film italiani o stranieri. Il regista, se volete vi dica anche il nome, se non ero nuovo, si chiama Dennis Gansel, però se vi dovesse piacere questo film ve ne consiglio un altro che fece un poco prima dell'onda, che è I ragazzi del Reich, una storia sempre di giovani, sempre di ragazzi, abitata proprio nella Germania nazista, piuttosto ben fatta, non è il capolavoro della storia, però un discreto film interessante sulla storia di un giovane pugile nella Germania nazista. Lonne invece ha ambientato i giorni nostri, presenta attori di oggi vestiti alla nostra maniera in una scuola e adesso vi racconto infatti qualcosina, non tanto anche della trama. Ovviamente della trama non vi rivelo granché, state ben sicuri, lo dico sempre, rivelo solo quello che potreste leggere in un libro in quarta ricopertina o in un film vedere in un trailer. Quindi vi rivelo solo l'inizio, alcuni spunti e poi dopo il film va avanti per conto suo. Se però anche questo vi dà fastidio, anche solo il trailer vi dà fastidio, saltate il punto, potete scorrere con la barra sotto al capitolo successivo e se no, comunque se volete invece approfondire in descrizione vi metto anche il link ad alcune scene del film se volete già intravederle. Cosa racconta questo film? Racconta appunto di un professore delle superiori di un liceo tedesco che deve fare una lezione molto particolare, tra l'altro non vorrebbe farla ma un po' gli tocca perché viene costretto dalla dirigenza della scuola a farle una lezione sull'autocrazia, cioè il governo estremamente dittatoriale dove una persona retiene tutto il potere e cioè praticamente le forme di totalitarismo. Per rendere più viva questa lezione, visto che i suoi alunni gli dicono ancora, ci parla del nazismo, lo sappiamo che i nazisti sono stati stupidi, cattivi eccetera, questi ragazzi tedeschi che sentono parlare di queste cose da decenni non ne possono più, lui decide di cambiare strategia, invece di parlare semplicemente del nazismo decide di far vivere ai ragazzi l'esperienza appunto del sentirsi parte di un gruppo cementato che segue gli stessi ideali, che segue gli stessi valori, che si veste uguale, che marcia uguale, che parla all'unisono, che erano quelle cose che facevano i regimi totalitari, il nazismo in particolare, se avete presente ad esempio le grandi adunate, Norimberga e così via. Ci si dà un nome, appunto l'onda, un saluto con cui i membri di questo gruppo si salutano tra loro, una divisa in un certo senso ufficiale e un insieme di regole molto rigorose, molto serie, che collidono un po' con quello che era l'abitudine dei ragazzi, i ragazzi all'inizio la prendono come un gioco ovviamente, come uno scherzo, anche perché sono ragazzi piuttosto anarchici che quindi sembrerebbe non abbiano nulla da spartire con qualcosa del genere, anche l'insegnante stesso è un insegnante che avrebbe preferito fare una lezione sull'anarchia piuttosto che sulle dittature e però un po' alla volta questi ragazzi iniziano a farsi prendere da questo modo di vivere, da questo stile, da questa anche durezza che però fa sentire parte di un gruppo, di un gruppo solido, di un gruppo che esclude gli altri, che ha dei nemici, ma proprio l'avere dei nemici cementa l'unione degli amici in un certo senso, insomma il viaggio del firma, un viaggio nella psicologia di questi ragazzi, nelle loro convinzioni, nel modo in cui si relazionano con chi c'è fuori, con chi è dentro all'onda e nel rapporto col leader, che in questo caso è rappresentato dal professore che diventa leader carismatico, simile a quello che appunto in una dittatura è il ruolo del Führer, leader, duce o che dir si voglia. È una storia che a un certo punto diventa anche abbastanza angosciante per certi versi, forte e però estremamente scioccante anche nel modo di intendere la scuola, la vita, le relazioni, cioè quando lo si guarda, ci si pone delle domande molto forti, ad esempio io cosa farei in quella situazione? Io se mi si fosse imposta una situazione del genere, mi sarei ribellato o mi sarei assimilato? Avrei seguito la massa, il gruppo e le sue regole che magari all'inizio possono sembrare anche logiche? Oppure mi sarei subito ribellato davanti alla forza del gruppo? È una domanda a cui è difficile rispondere onestamente finché non si vive all'interno di questa situazione ma il film ci permette di porci queste domande e per la prima volta forse di aprire gli occhi davanti a certe dinamiche. Il film come vi dicevo è ben diretto, è ben recitato, ha una trama accattivante, insomma è un film che prende in genere quando lo faccio vedere ai miei ragazzi non se ne è nessuno che mi dica che non gli è piaciuto, magari mi dice non mi è piaciuto questo punto della trama perché sperava che le cose andassero in maniera diversa, non perché il film non l'abbia preso, il film non l'abbia catturato e anche angosciato perché è un film ripeto drammatico, non pensate che sia un film leggero, un film drammatico, forte in cui c'è anche un po' di violenza e quindi ve lo dico, non è vietato, però attenzione se la violenza di tutti i tipi non è nelle vostre corde è meglio non guardarlo. Dopo non è Tarantino, non vorrei neanche che pensassi che fosse un film di Tarantino, non c'è tutta sta gran violenza, c'è un po' di violenza, ma la violenza è più psicologica che fisica di solito, per lo più, però insomma anche qui può essere un po' forte da vedere, quindi non tutti possono avere tra virgolette lo stomaco per vederselo, ma in genere ripeto in quinta superiore si guarda questo e ben altro, quindi si può vedere tranquillamente, lo consiglio onestamente a tutti, certo bisogna vederlo con una certa predisposizione d'animo, non guardatevelo così distrattamente perché è un film che vi cattura e vi può anche un po' angosciare tutto qua, però merita di essere visto, merita di stimolare certe domande secondo me ed è un film ben fatto. In descrizione vi dicevo che fin dall'inizio trovate un link a qualche scena, se poi volete un pochino vedere un po' come procede la storia, quali sono gli attori, non vi ho citato gli attori perché tanto non li conoscete, però sono ripeto per lo più ragazzi, c'è l'insegnante che è un po' più maturo, c'è qualche altro personaggio adulto, ma per lo più ragazzi, che però devo dire recitano bene, è un film ripeto di nuovo di livello. Perché vederlo? L'ho detto fin dall'inizio, secondo me in chiave storico-filosofica è un film importante, è un film che vale la pena rivedere perché da un lato ci pone nell'ottica del nazismo, in qualche modo, o comunque più in generale direi di totalitarismo, ci porta a porci delle domande che poi quando studiamo, che so, il nazismo, il fascismo, lo stalinismo e altri sistemi di questo tipo, ci possono venire, no? Chiunque abbia studiato approfonditamente questi temi si è sempre posto la domanda del come è stato possibile. O soprattutto, io cosa avrei fatto in quella situazione? Io come mi sarei comportato in quelle circostanze e il film ci pone proprio anche in maniera scioccante davanti a questa domanda. Quindi è un film che piace sicuramente a chi è interessato e appassionato di certi temi e lo porta poi a approfondirli maggiormente, perché a volte nello studio anche alle superiori è un po' superficiale di certe questioni, non si si rende ben conto pienamente di come agiscano le dinamiche sociali sul comportamento umano. Ma direi che oltre che essere interessanti dal punto di vista storico, il film è interessante anche dal punto di vista filosofico e sociale, perché chiaramente ci pone delle domande più ampie sulle dinamiche di gruppo, sui gruppi, sulle masse, sulla politica. Il leader politico di qualsiasi tipo, anche forse nelle nostre democrazie attuali, può usare certe strategie chiaramente visibili nel film, certe strategie che provengono anche dai regimi totalitari, anche in chiave moderna, per cementare il senso di appartenenza, per cementare la forza del gruppo, per porre la questione del noi contro di loro. Questioni che in filosofia politica sono state spesso affrontate da Schmitt, un filosofo del diritto che tra l'altro operava proprio nella Germania, prima della guerra, durante la guerra e dopo la guerra e che sono molto interessanti. Le categorie del politico è uno dei libri fondamentali da questo punto di vista, dove si fonda la distinzione tra amico e nemico così fondamentale nella politica dei totalitarismi, però forse anche della politica attuale. E allora ragionare su questo film ci porta a ragionare anche sulla politica di oggi in fondo, che certo è meno estrema e meno radicale di quella, però certe strategie comunicative le usa ancora, certe strategie propagandistiche le usa ancora. E chiaramente questo ci deve mostrare anche i pericoli di certe strategie, di certe propaganda. Però attenzione, un film che ci parla dell'oggi della Germania razzista, ma ci parla in generale della politica del Novecento, se sappiamo leggerlo e interpretarlo nella maniera più corretta. Quindi è un film molto interessante. Certo, io consiglio sempre, oltre a vedere il film, poi assegno ai miei ragazzi anche delle letture propriamente storiche o filosofiche per approfondire. Quindi vi consiglio poi di approfondire la questione per quanto riguarda, dicevo, la filosofia propriamente detta, caro Schmidt appunto, vi ripeto. Per quanto riguarda la storia, ci sono dei libri bellissimi sulla, su come il nazismo riuscì a prendere, catturare le masse, come anche il fascismo riuscì a catturare le masse, tra i più interessanti, anche se parla poi anche di guerra. Io consiglio sempre Uomini Comuni di Browning, che è un saggio su alcuni soldati tedeschi che andarono a massacrare ebrei in Polonia senza il minimo dubbio, pur provenendo da famiglie per bene, da vite per bene e si trasformarono in carnefici. Ma questo è un tema comune trattato in moltissimi libri. Ecco, questo è il film, l'Onda, appunto 2008, film tedesco, si trova abbastanza facilmente. Si trova in DVD e se volete in descrizione trovate il link a circa 10 euro e lo consiglio perché è un film, potete tenervelo in videoteca. Lo trovate, ho controllato anche su Amazon Prime Video, se siete abbonati, se l'avete già gratuitamente, dura un'ora e 40 circa. Su Netflix invece trovate una serie tv che si intitola Noi siamo l'Onda, che è partita l'anno scorso se non ricordo male, che è ispirata al film, è prodotta sempre dal regista del film, una serie tedesca che trasforma un po' il film in una serie tv e quindi in un modo o nell'altro, io vi consiglio il film, la serie tv non l'ho ancora vista, la guarderò, però il film è sicuramente di valore e quindi se riuscite partite da lì, ripeto, il DVD su 10 euro e Amazon Prime Video trovate il film, forse anche su altre piattaforme, ma non sono abbonato a tutto e quindi non posso più di tanto vedere. Comunque ve lo consiglio. Se poi l'avete già visto, se avete una vostra opinione in merito, ci sono sempre i commenti sotto in cui potete dire la vostra senza fare spoiler sul fatto se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se è interessante oppure non è interessante. Ci vediamo presto per nuovi video del nostro videoclub storico-filosofico e anche del book club, ma anche ovviamente di storia, filosofia ed educazione civica. Ciao, alla prossima!